Il difensore regionale è incaricato di tutelare i diritti e gli interessi dei cittadini, è nominato dal Consiglio regionale e si occupa di tutti i casi di cattiva amministrazione, illegittimità o irregolarità amministrativa, mancanza di risposta o rifiuto di informazione. Vista l'importanza di questo ruolo istituzionale, vogliamo inserire nella normativa l'obbligatorietà di selezione tramite un concorso pubblico e tra i requisiti dovrà esserci un titolo di studio adeguato al ruolo che questa figura ricopre. Infine vogliamo ridimensionare l'emolumento in ottica di spending review.